Musica Associazione di volontariato, cittadini italiani e stranieri, tutti assieme nell'ambito della giornata dedicata alla rigenerazione urbana. Ieri mattina hanno ripulito l'area dei bagni greci a Caposoprano. Si tratta di uno straordinario esempio di impianto termale risalente al IV-III secolo a.C. venuto alla luce nel 1957. È un'iniziativa importante perché il sito da tempo purtroppo a causa della mancanza di fondi risultava in stato di abbandono. Abbiamo preceduto al cambio della tabellonistica che risultava appunto rovinata e alla pulizia delle aiole e alla pulizia appunto all'interno dei bagni greci. C'è un sito interessante, tra i più importanti nel mondo greco, tra i pochi esempi appunto di impianto di tipo termale e che descrive una di quelle fasi della città, quella tra il IV e III secolo, forse poco conosciuta ma di grande valore. All'interno dell'area ci sono giovani archeologi che si rendono conto quando sia delicato e vulnerabile il sito e quindi si fanno questa operazione con molta cura, con molta attenzione e sicuramente saranno più sensibili un giorno a questi siti stessi. L'iniziativa rientra nel calendario della quarta edizione della Primavera dell'Arte. Siamo qui per portare, per rivalutare un po' uno spazio dimenticato dalla cittadinanza e quindi siamo qui tutti giovani e adulti per portare valore a uno spazio, a un sito archeologico che era stato dimenticato un po' da tutti. Credo che questi qui siano i primi passi appunto per far rinascere e far ricordare a tutti quelle che sono le nostre radici e quindi la nostra storia. È molto bello dare un contributo alla nostra città direttamente per un sito che è comunque molto importante di quarto secolo e che andrebbe valorizzato maggiormente non solo dal punto di vista della pulizia ma anche dal punto di vista della fruizione per dei beni culturali che hanno questo valore molto grande. Per noi è importante dare il contributo alla città e in questo modo proviamo a rendere fruibile uno di questi archeologici meno considerati, forse a Gela, forse perché non si conosce, forse perché appunto non è mai aperto e mai visitabile. Alla manifestazione di ieri hanno aderito il gruppo archeologico Geloi, il Movi, la Casa del Volontariato, la Proloco Gela, Ship Lab, il Centro di Cultura e Spiritualità Salvatore Zuppardo, l'associazione Calliope e la cooperativa Tu come me. Come associazione abbiamo voluto esserci appunto per riportare, restaurare, riportare come si dice pulire questo sito che altrimenti non era fruibile molto bene a causa delle erbacce e della sporcizia. Screccio day all'istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela ha un'opportunità per imparare a programmare e sviluppare la creatività e il pensiero computazionale ma anche un'occasione per stare insieme e condividere idee. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con Ship Lab nell'ambito delle iniziative promosse dalla scuola diretta da Maurizio Tedesco. I bambini tra i 7 e i 12 anni possono programmare con semplici mattoncini, semplici puzzle, dei programmi, dei videogiochi o addirittura robot così come abbiamo fatto noi qui alla scuola Quasimodo. Scuola Quasimodo e Gela che sono tra i pochi in Sicilia a celebrare lo scratch day, quindi i bambini devono essere molto entusiasti di quello che hanno fatto oggi. Oggi in pratica loro sono riusciti a programmare questo piccolo robottino e sono riusciti a farlo muovere in avanti, indietro, a destra, a sinistra, a farlo suonare, a far accendere dei led. Tutto questo serve ai più piccoli ad avvicinarsi e al mondo della programmazione e al mondo dell'elettronica, che sono comunque due categorie che un domani possono sempre più immetterli all'interno del mondo del lavoro. E se questo lo riescono a fare già ad 11-12 anni, per loro il futuro è sicuramente prospero. Oggi a scuola abbiamo programmato un robot tramite un programma che si chiama Scratch. Per fare questo programma all'inizio è venuto un po' complicato, però poi mano a mano che lo facevo iniziavo a capire sempre meglio come funzionasse e in questo modo sono riuscito a fare anche un buon lavoro. Abbiamo fatto un esercizio tramite Scratch che dovevamo fare un programma in modo che il robot prima di tutto si muovesse. Poi in base ai numeri che scrivavamo sul telecomando doveva esserci una precisa luce e un preciso suono e poi il robot doveva camminare. Quando camminava e incontrava un ostacolo dovevano attivarsi dei sensori che bloccavano il robot e fermavano i motori. È stata una festa in un anno ricco di coding, robotica ed educativa per un numero sempre crescente di studenti dell'istituto scolastico. È un'attività che abbiamo voluto promuovere per coinvolgere i ragazzi al termine dell'anno scolastico in un momento anche per certi versi celebrativo di tutta quella che è l'attività che hanno svolto nel corso dell'anno scolastico. Perché non è un episodio isolato ma scaturisce da un lavoro che hanno svolto nelle varie classi della scuola secondaria di primo grado e che è stato un primo approccio per loro verso la programmazione che ha la finalità di sviluppare il pensiero computazionale. Cioè noi vorremmo che i ragazzi fossero non solo dei fruitori dei prodotti informatici ma conoscessero bene quali sono i processi logico-matematici che sovrintendono al funzionamento dei dispositivi che loro così bene utilizzano come nativi digitali. Il porto di Gela è abbandonato a se stesso e di ieri l'accordo appello lanciato dai componenti del comitato al presidente della regione Rosario Crocetta hanno chiesto un intervento immediato. Gli operatori portuali e pescatori da diversi anni portano avanti un'unica battaglia quella di avere un porto rifugio agibile e fruibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede. Il deputato regionale di Forza Etaria, Pino Federico. Abbiamo fatto un riunione la settimana scorsa con il direttore regionale della protezione civile che era stato incaricato dal presidente della regione per mettere su un progetto che fosse un progetto però che durasse meno di qualche anno, meno 7-8 anni. L'intervento doveva essere non di escavazione nella zona centrale delle boccature ma tutto il porto doveva essere ripulito per arrivare alla profondità di 4-5 metri. L'attoriere quando abbiamo fatto questo incontro ci ha presentato il progetto e ora manca la copertura finanziaria. La copertura finanziaria, l'impegno da parte di tutta, anche il presidente della regione Crocetto con cui ho parlato, è quello di intervenire con le risorse delle compensazioni dell'Eni. Quindi ieri ho parlato con il direttore di foto e oggi si incontrano anche il presidente della regione per cui finalmente stabiliranno quando incontrarsi insieme al sindaco di Gela, al responsabile dell'Eni e alla regione così. In modo da stabilire qual è la cifra per l'intervento dovrebbe essere intorno a 5 milioni e 8 e quindi la regione, il direttore regionale stabilirà anche il RUP e quindi il procedimento dovrebbe andare avanti. In quel tavolo è stato detto che ci vorranno 5-6 mesi per fare questo intervento ma capite bene che è un intervento molto importante e in più è un intervento duraturo. In attesa che arrivi finalmente dopo tre anni e mezzo il via da parte del Ministero per quanto riguarda il megaprogetto del Porto di Gela dove qualche anno fa avevamo dato, allora ero presidente della provincia, avevamo dato anche una copertura di circa 50 milioni. Ecco ma è un problema oramai che si trascina da tanto tempo ma agli operatori del mare cosa diciamo, quando realmente i lavori cominceranno? Ci vorranno 5-6 mesi, io penso che se si accelera la tabistica può essere mantenuta ma la cosa importante però agli operatori dobbiamo dire che finalmente questa volta si farà un intervento, intervento anche sul braccio, su alcune dune che permetterà finalmente la fluibilità del nostro porto per diversi anni. Ma se non ci fossero state allora le compensazioni dell'Eni che fa il porto sarebbe rimasto così com'è? Tre anni fa i soldi erano stati messi 49 milioni di euro da parte quando ero presidente della provincia io e presidente della regione l'onorevole Lombardo queste risorse all'interno del PAC sono state tolte e sono state portate da parte del governo Rezze a pagare cassa integrazione a nord d'Italia perché sono state tolte alla regione Sicilia circa 600 milioni non so se sono state ritornate ma quelle del Porto di Gela ad oggi non ci sono. Dopo qualche mese di silenzio ma era proprio propedeutico a verificare quelli che erano i movimenti anche i comportamenti dell'Udc ho potuto notare che è un partito che andando moderato ricentra che chiaramente ha dei principi e dei valori che sono poi quelli miei, quelli che ho cercato di sposare che mi ha lasciato libero nella scelta da seguire anche nei confronti dell'amministrazione comunale con ragazzi giovani, professionisti, un segretario giovane che si sta muovendo benissimo in città e con delle promesse da parte degli organismi regionali con a capo l'assessore Miciche e l'assessore alle politiche del lavoro e della famiglia che ha promesso a tutti noi che verrà in città a Gela ogni settimanalmente aprirà la segreteria per cui avremo l'assessore presente nella nostra città per dare risposte concrete ai cittadini. Dove si collocherà l'Udc in consiglio comunale? Farò opposizione? Sicuramente io continuerò a fare quello che ho sempre fatto quindi le mie idee di trasparenza, di denunce di quelle che sono le situazioni che ritengo poco chiare io continuerò a farle. Nello stesso tempo, così come pensavo prima, tutti quegli atti che sono fatti dall'amministrazione comunale per il momento pochissimi, per la verità, se sono fatti per portare avanti i Gela io li voterò tranquillamente al di là dei colori che oggi prendo da questo momento in poi. L'operazione Pane Bianco è un'operazione che dà lustro a questo partito perché comunque parliamo di un consigliere comunale attento alla macchina amministrativa attento a tutto ciò che è stato il lavoro portato avanti dall'Aggiunta Messinese dalla elezione ad oggi, un consigliere attento, un professionista giovane a cui ripeto va il mio ringraziamento per aver sposato questa causa e ripeto, noi in Giovanni abbiamo, io lo chiamo il pivot della situazione oramai perché comunque sappiamo che lui darà del filo da torcere e non tornerà indietro rispetto all'opposizione fino ad oggi fatta per cui ripeto, carta bianca, Giovanni Pane Bianco. Cosa farà da oggi l'Udc per migliorare la situazione che si vive a Gela? Chiaramente la situazione a Gela è drammatica sotto molti punti di vista e noi ci stiamo impegnando sin dall'inizio nell'approfondire appunto questioni di interesse della comunità cittadina oggi lo faremo più da vicino grazie all'Avvocato Pane Bianco e quindi ci impegneremo su questa linea. Dal mancato utilizzo delle cule termiche ai ritardi nell'apertura del nuovo pronto soccorso dai guasti cronici dell'attacca ai servizi oncologici negati sono i punti dibattuti ieri a Palermo durante l'incontro che il sindaco di Gela, Domenico Pessinese, ha avuto con l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi affrontati i problemi della sanità cittadina con particolare riferimento all'ospedale Vittorio Emanuele l'esponente della giunta Crocetta ha riferito di conoscere perfettamente le criticità del nosocomio locale e se dopo vari mesi continuiamo a parlarne è perché non sono state risolte il confronto con Gucciardi è stato richiesto dall'assessore comunale Francesco Salimitro a seguito dell'ultima conferenza dei sindaci nella quale la questione leggerese era stata posta in secondo piano ieri all'incontro non era presente il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta Carmelo Iacono è intollerabile la mancanza del direttore generale Iacono alla riunione che si è tenuta ieri a Palermo davanti all'assessore Gucciardi questo dimostra la mancanza di sensibilità sui problemi reali che abbiamo a tela questa attività sicuramente non può passare inosservata perché oltre alla mancanza di rispetto di non permettersi nemmeno di abitare vuol dire che di fondo non c'è un interessamento dei problemi reali fino adesso abbiamo avuto molte chiacchiere ma di sostanza sostanzialmente non ce n'è stata di conseguenza questo è stato fatto rappresentare all'assessore vedremo i provvedimenti che prenderà sia l'assessore e sicuramente da parte del comune di Gela faremo le nostre istanze in modo forse perché questo direttore dia delle risposte reali e veri al territorio Professore Sgarbi siamo all'interno del museo regionale di Gela una città di 75 mila abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più come si salva? Si salva riveditando quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo e io da tempo incontro Crocetta perché ho una specie di turbamento personale mi dispiace che uno stia 5 anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della regione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé sparisce come fumo gli ultimi due anni se gli mancano due cerca di fare qualcosa e ho individuato Morgantina con uno dei luoghi su cui può intervenire ma io credo che se lui l'imperio annulla quell'inutile e brutto progetto per il museo della nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettano tutte le opere nel massimo dello smalto però occorre a qualcuno che non lo dico perché avendo fatto il museo il museo della mafia il museo della follia il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio e se voi andate a vedere il museo della follia lo vedete non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento ma io credo che con due milioni di euro che sono una cifra forse a disposizione della regione uno possa fare un museo perfetto entro il tempo della scadenza di Crocetta io lo sfido a farlo senta ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure mi è venuto in mente in questo momento questa cosa per lui lo dico non per me ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri sì la gente può perdere tempo vogliono guadagnare quattro soldi quindi obiettivamente l'articolo della Costituzione adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Ainis la Costituzione è la bellezza indica che la Repubblica forata sul lavoro ma sono uno scemo lavora cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente ma quando viene da me un disoccupato e vi dice voglio lavoro quando sei così felice che puoi non lavorare perché puoi lavorare uno che sta in Sicilia come fa a lavorare? non può lavorare ma non lo può dire però questo discorso aggela oggi che abbiamo un mare di disoccupati grazie allo stabilimento che va via ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro dico che nella condizione del non lavoro cioè dell'ozium c'è un privilegio è chiaro poi qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare quindi voi partite già finché ci sono i genitori e i nonni con la pensione poi diventa un problema dopo però è anche vero che tolto il tema sociale tutto il meridione non è evocato a lavorare lo dico per rispondere alla domanda poi io sono uno che lavora e forse torniamo alla domanda come la salviamo questa città? no a parte la città io penso come salviamo Crocetto e la sua anima no ci interessa più gela che Crocetto la gente che dice cose molto semplici perché tutti rivendicano il lavoro il posto e quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cavotaggio delle piccole cose che sono invece dovrebbe cominciare immaginare più grande per la sua città e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno non so 500.000 persone all'anno se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia cioè di ripartire è finita un'industria ne comincia un'altra oggi con grande soddisfazione accogliamo l'adesione del consigliere Carmelo Casano importante significativa perché il consigliere di cui conosciamo la storia amato sicuramente perché il suo successo è la prova del suo consenso ha deciso di aderire a questo progetto importante che vede la ricostituzione dell'area popolare che discende dall'intenzione nazionale e chiaramente ha in questa regione nostra una grande adesione dunque il progetto ambizioso dell'area popolare nazionale è quello di riunire tutte le anime all'interno dell'udc è questo che volete fare anche all'interno del nostro consiglio comunale soprattutto il centro che è sempre stato il luogo in fondo della dialettica e quindi ci sono tante anime che lo compongono però la dialettica è principio di democrazia posso avere al suo interno un dibattito ma che ci sia divisione questo è assolutamente da escludere la divisione è debolezza è indebolimento sull'unione proprio vorrei che non ci fosse dubbio il vostro progetto ci sembra di capire nazionale e Gela che ruolo avrà in questo progetto nazionale allora partiamo proprio da Gela oggi è un giorno significativo perché Gela è sempre stata e voi ovviamente che ne siete l'estensione un luogo di grande contesa non solo geograficamente ma la appetibilità di Gela da sola rappresenta il cambiamento noi potremmo e vorremmo essere significativi partire da qua per dire quanto è importante la legalità ma quanto i siciliani hanno bisogno di essere liberati molto da nove mesi sono indipendente quindi già questo addio è avvenuto si è concretizzato il passaggio oggi aderisco a un progetto nazionale dove vede tutti i moderati e i popolari che stanno cercando di fare un percorso per l'Italia per riunire queste persone che credono nella famiglia credono nei valori credono nel popolo e credono nel lavoro quindi questo progetto per me oggi trova molto entusiasmo anche perché da incontri avuti a Roma anche con Maria Moro nonché la figlia di Moro mi convigge molto di più perché guarda anche a sinistra questo progetto e quindi ricordiamo il stasista Moro negli anni è stato colui che il primo inizia a dialogare con la sinistra voi siete area popolare nazionale dovete adesso cominciare a avviare un dialogo con gli altri componenti dell'area di centro primi fra tutti i componenti dell'Udc primi da tutti i componenti dell'Udc dialogo c'è perché abbiamo anche un comunicato dell'onorevole Cesa che è il segretario nazionale dell'Udc che parla di questo progetto è un progetto ampio dove l'Udc sarà proprio uno dei primi partiti a condurre questa nuova avventura dove sarà un'area di centro che in Italia c'è tanto bisogno di area di centro dallo scarto di lana che cosa possiamo ottenere è un progetto assolutamente innovativo sì è un progetto innovativo perché dagli scarti di lana possono essere trattati con un processo di idrolisi verde e trasformati in un fertilizzante organico adatto all'agricoltura biologica quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo fertilizzante allora questo tipo di fertilizzante si pone diciamo in alternativa ad un fertilizzante chimico e dagli analisi appunto abbiamo abbiamo capito che è un fertilizzante che è ricco di biostimolanti è ricco di azoto di carbonio che sono gli elementi essenziali per il nutrimento delle piante è efficace quanto un fertilizzante chimico che naturalmente la scienza negli anni ha dimostrato assolutamente dannoso per la nostra salute allora dai primi risultati che sono stati fatte delle prove in laboratorio poi delle prove in vaso e attualmente stiamo facendo delle prove in campo di sperimentazione perciò del fertilizzante su piccoli frutti e su vite si stanno ottenendo dei buoni risultati certamente bisognerà aspettare a settembre-ottobre perché siamo adesso in una fase di concimazione e vedremo i risultati comparandoli a dei fertilizzanti chimici una grossa fetta delle risorse comunitarie nei prossimi anni sta dentro la strategia dell'innovazione che è stata presentata un paio di settimane fa al Dipartimento Regionale e mette assieme sia il sistema delle piccole imprese tradizionali sia le piccole e medie imprese del campo dell'agricoltura e beni culturali del turismo inducendo loro a processi di innovazione di processo di prodotto di relazioni di marketing per renderle competitive nel mercato noi dobbiamo intercettare sempre più fondi e esperienze per far crescere anche il livello culturale delle nostre imprese e per convincerle che tutto ciò è possibile pensare di poter utilizzare anche lo scarto della lana fa riflettere cioè dovremmo forse ripensare a quei vecchi mestieri come l'allevamento dall'allevamento si possono ricavare davvero tantissimi prodotti innovazione ricerca e artigianato si fondono assieme la logica ovviamente sta nel recupero dei prodotti di scarto quello che si faceva storicamente in maniera usuale oggi invece diventa diciamo di carattere innovativo trovando proprio nei prodotti di scarto elementi di alta qualità questo è il caso dell'utilizzo delle lane di scarto che sono dei fertilizzanti ovviamente trattati diciamo con dei processi non chimici quindi biologici dei fertilizzanti ad alto valore aggiunto con dei biostimolanti atti diciamo ad accelerare i processi di fertilizzazione nelle colture l'ottica dell'amministrazione è incentivare sostenere tutte quelle che sono le attività in cui la ricerca l'innovazione si fondano con le attività produttive per cercare di cambiare e segnare il passo del cambiamento in un territorio che ha bisogno di rinnovarsi in maniera rapida e costante incontro conclusivo oggi del progetto giochi sicuri destinato agli alunni delle terze e quarte della scuola primaria dell'istituto Sor Teresa Valse di Macchidella il progetto si è articolato con la distribuzione agli studenti di un opuscolo contenente disegni in bianco e nero che riproducono momenti di vita quotidiana in alcuni casi potenzialmente pericolosi per la salute con brevi spazi lasciati liberi sotto i disegni per un eventuale commento da parte degli alunni stessi gli alunni hanno commentato e colorato i disegni alla fine dell'opuscolo si trova uno spazio libero dove gli alunni stessi hanno descritto un'esperienza personale o appresa dalla stampa o altra significativa da raccontare in tema di prevenzione di incidenti nell'ambito degli ambienti di vita qual è la situazione raffigurata nell'opuscolo che ti ha maggiormente colpito e perché? a me mi ha colpito la situazione della bici che i due ragazzi si giravano e non hanno fatto attenzione al sasso io ho scritto come esperienza che era pericoloso perché poteva cadere e rompersi la testa con la pietra la maggior parte che mi ha colpito di questo opuscolo giochi sicuri è stato del bambino che puntava il fucile all'altro bambino e poteva essere pericoloso perché poteva ucciderlo poteva partire un colpo perché senza la sicura è pericoloso i ragazzi sono stati interpellati dall'asle che è nella persona del dottor migliore che naturalmente ogni anno come ogni anno viene a fare la sua così chiamiamola relazione poi i bambini realizzano anche sia dei disegni sia completano degli opuscoletti dove verifichiamo anche le loro competenze e poi naturalmente attraverso l'osservazione ci rendiamo conto se quanto hanno appreso poi viene realizzato nel loro quotidiano il progetto è stato realizzato da Salvatore Migliore direttore dell'unità operativa di epidemiologia delle malattie cronico-degenerative del distretto sanitario di Gela assieme alle docenti è importante che si inizia a questa età a parlare di sicurezza negli ambienti di vita proprio attraverso il gioco non sono anni che facciamo questo tipo di lavoro e abbiamo trovato un particolare riscontro in questa scuola perché addirittura si sono fatte delle simulazioni e quindi questo è molto importante per diciamo apprendere il concetto della sicurezza che poi viene trasportato anche negli ambienti di lavoro dobbiamo dire fra l'altro che nel piano aziendale il nostro direttore generale ha previsto diciamo la direttiva che è quella della regione di attenzionare appunto la prevenzione degli infortuni e quindi dare quelle che sono quelle indicazioni che sono utili per poter assumere degli atteggiamenti corretti termini modalità e fonti di finanziamento al fine di coprire gli oltre 46.000 tirocini in Sicilia del progetto garanzia giovani li ha chiariti l'assessore regionale alla famiglia e al lavoro il nisseno Gianluca Miciche per quanto riguarda i primi 30.000 tirocini il costo complessivo è di 87 milioni di euro più quelli destinati agli enti promotori privati la somma destinata ai tirocinanti dice l'esponente della giunta crocetta è stata versata dall'Inps per importi pari al 96% del totale per quanto riguarda i rimanenti 16.000 la somma prevista è di circa 46 milioni di euro di questi 20 milioni sono già stati autorizzati da Roma e l'istituto nazionale della previdenza sociale ha già la disponibilità a pagare per quanto riguarda il rimanente 26% del totale si stanno rimodulando risorse dalla linea di intervento 7.2 che ammonta a 31 milioni di euro così facendo spiega l'assessore Miciche si potrà anche in questo secondo caso procedere al pagamento dei tirocinanti che hanno presentato domanda entro l'8 ottobre del 2015 ci sono novità anche in merito ai lavoratori del reddito minimo di inserimento lo stesso assessore ha firmato il decreto per il piano RMI di 9,4 milioni di euro il 20% è dedicato al piano di fuoriuscita dei soggetti che ne hanno fatto richiesta al 17 aprile scorso l'80% invece interessa il piano di riparto per i lavoratori rimasti il prossimo mese durante l'assessamento di bilancio regionale il fondo per gli RMI sarà rimpinguato al fine di dare completezza del progetto fino alla conclusione dell'anno e dunque per pagare la restante parte dei lavoratori fuoriusciti soddisfazione per i provvedimenti adottati da Gianluca Miciche che interessano numerosi cittadini gianesi è stata manifestata dal segretario cittadino dell'Udc Salvatore Incardona e dal consigliere comunale Giovanni Vanebianco e dal consigliere comunale